Musica Potenta pala ragazzi, qua Vaxlogic Omega Oggi sono in uno stato abbastanza scandaloso Perché infatti come potete ben vedere mi sono appena svegliato Sono ancora in pigiama quindi non guardate la facecam in questi video Guardate solo i video in generale Comunque oggi sono qui a presentare questo nuovo video Che ragazzi è un video nella quale proveremo il primo Man of the Match Che ho fatto su appunto FIFA 15 Quindi cosa veramente abbastanza, o meglio abbastanza importante Comunque come sempre prima di iniziare volevo dire un paio di cose La prima è che come sempre vi volevo ricordarvi per stare da OneFIFA.com se siete interessati in un programma di FIFA E mi raccomando utilizzate il codice Axel Con2 come discount code Come scuola cosa vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Anche nel video di ieri abbiamo raggiunto i 4000 mi piace Quindi vi chiedo una cosa In questo ne voglio raggiungere 5000 Perché infatti il prossimo video o tra due video Sarà un qualcosa di fantastico Ve l'avevo già preannunciato nello scorso video Poi ho visto che sono usciti in Man of the Match e ho detto Ma facciamone un video su Man of the Match E quindi eccoci qua Poi di passare da OneFIFA ve l'ho già detto Servizio molto veloce poiché è full automatic E detto questo ragazzi non mi sembra avere niente cose da dire Questa qua è la squadra che andrò ad utilizzare Son sembra una bestia Non so se lo ricordate ma io utilizzavo anche la sua versione Non IF non Man of the Match che era una bestia Quindi mi aspetto un qualcosa di veramente fantastico E andiamo a vedere quale sarà o meglio chi sarà il nostro sfidante Quale sarà la sua squadra 81 di valutazione Minghe 4-1-2-1-2 Aia E' anche buggato Aia Attenzione Palla per il capinone De Bruyne O De Bruyne Che sta per fare l'Euro goal Andato in mezzo Si vede che è un gioco Valotelli non l'avrebbe mai fatto Non aveva sbagliato La corsa del cavallo Son Che se l'allunga Oh mio Dio Quanto è vero te Quanto Lo scatta Son avanza Porca miseria parata Mi ha fatto una regazione Oh Cribbio Oh boia No ma non possiamo prendere sti gol Ora recupero Così balla Bernaldo Che la mette Dove c'è il barbo 1-1 Andiamola a vincere Andiamola a vincere Ottima palla per i barbo 2-1 Al quarantottesimo Però ragazzi Ho notato che Son E' una bestia Cioè sinceramente mi sta piacendo Però non mi piace Che sta molto indietro Questa casa del suo workers Che se non mi sbaglio Sono medio e basso Oppure basso e medio Comunque sta molto indietro Ecco Dovete essere abituati O meglio dovete abituarvi A giocatori simili Dai Son Dai Son Ci puoi pensare tu Ci pensi tu Ci pensi Dai che uno l'hai scattato Dai che uno l'hai scattato Bravissimo Son Di destro Oh Ma solo a lui le para Sto portiere Mi segnerà Ma che due palle Ma no Quadratino Dai Son Son Devi farmelo E' una questione Di dover Son Si E' un parlo Tercello Il Son Ci porta il bacio Meno male Noi Cantissimo Son Ed è finita E abbiamo vinto Meno male Adesso Andiamo a farlo E ragazzi Nuovo sfidatore Che a miseria Nuovo sfidante 4-1-2-1-2 Ormai tutti erano 4-1-2-1-2-2 Della Bundesliga Forte Perché a Royce Nula Gozzi Lewandowski Non era rigore Ragazzi So Vi sto per insegnare Come parare un rigore Allora Per prima cosa Vi dovrete Continuare a muovere Sulla linea Come sto facendo Io Ta 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 Appena lui tirerà Vi metterete in centro E starete fermi Si Ma dai Ma Dio santo Che schifo Qua Questa è una bestia Questa è Ciara Dai quadratino Ehi Però come fa Non è È rigore Quello dai Non è questo Dai Sikawin Dai L'hai visto Son Son Ma Dio santo Dai Sikawino Bella Oh Fuori il gioco Siamo pronti Mettiamo sta PC mode Dai quadratino Dai che bella Palla per Cikawin Parato Palla per Son Dai Fammi un back cross Pennellato in mezzo La signora Bella Palla per Son E vai 2-1 Andiamo Ce la prendere Andiamo Ottimo Cosa ti metti In mezzo Marchisio De Brucica 2-2 Prendiamocela Al 73 2-2 Son 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 Quadratino Traversa Non ci posso Credere No Non posso Averlo Fatto Ti prego Non posso Averlo Fatto Ma non è Possibile Ho dominato Io Secondo E prendo Gol Per una Vogliata Del genere E abbiamo Perso Dio Fa Non è Possibile E ragazzi Detto Questo Ti volevo Dire Allora Parliamo Un attimo Di Son Perché Al fine Il video L'ha Concentrato Su Son Non mi è Piaciuto Affatto Secondo me Non li vale 300 Mila Che ho Speso Perché Non È Sempre Indietro Worklet Normale Basto Per Un Ala Secondo me Non vanno Bene Quindi Non Prendetelo Oppure Se basta 100 A mio Parere Converebbe Prenderlo Perché 100 Li vale Comunque Detto Questo Mi raccomando Io vi saluto Vi dico Potenta Pasen Al prossimo Video Ciao a tutti